Questa è una piazza di persone, ragazzi e ragazze che non si spaventano davanti alle manganellate, non si spaventano davanti a nulla e pacificamente con dei contenuti si riuniscono per protestare contro quello che questo governo sta facendo. Non solo sta sbagliando le politiche, ma se contesti vuole manganellarti fuori dai palazzi e dentro i palazzi. Ovviamente come forze politiche su questo non ci stiamo e qui c'è la solidarietà di tante persone che non pensano che la democrazia sia questa e non pensano che l'Italia meriti un trattamento del genere e meriti un governo del genere. Semplicemente questo.